Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta vedando con ardor, le gambe snelle, dormi da te. Come eravamo allora e tutto oggi? Naturalmente non l'avrime anche pensata. Non ho mai pensato come che si arriva al futuro da grande, perché non avevo neanche idea di cosa fare, né niente. Oggi come Osi a vent'anni, siete ancora con la cartella sulle spalle? Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta vedando con ardor. Questo Osi mi sarebbe piaciuto moltissimo, perché oggi sono, non tutto quanto, c'è tutto oggi sono. Una volta non avevamo neanche la bicicletta. C'è macchine, chi si chiara? Aveva macchine, eri siri? Riferisco una volta, perché si accontentavano di più. Per la libertà. Penso che allora ci si divertisse molto di più. C'era molta più sincerità, più comprensione. Adesso è tutto veloce, tutto frenesia, tutto tanto, tutto subito. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta vedando con ardor. No, è... No, mai. No, avrei avuto l'opportunità, ma a un certo punto, io avevo già perso il papà e la mamma, mia moglie aveva ancora i suoi, non si è sentita di lasciarli. Sono in gita col prete, figlio di Slovenia. Stavo bene là, perché là c'era l'opportunità di guadagnare, di fare più in fretta e tornare. Però non sarei rimasta là per niente al mondo. In Libia, ad esempio, no. Eravamo precisamente a Oms, vicino alle Pismagna. E altri posti mi sarebbe piaciuto, ma... Ma chi te la fa fare? Sto bene anche qua. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta vedando con ardor. Dunque, da giovane si comunicava solamente tramite corrispondenza, per dire, la cartolina o la letterina. Tutto nostro era la lettera. Ti emozionavi quando la scrivevi, poi andare a educarla era già un'altra emozione. Per niente, per niente. Ma ho sentito dire, ma lo saprei dire proprio di preciso. Comunque non è che io volevo praticare questa cosa. Oggi sono tutto quanto complicato, no? Complicatissimo che uno, ad esempio, no, se non ha studiato l'inglese, rimane ignorante, capito? No. Penso che sia cosa del computer. Beh, mi va bene che io usi il telefono e tutto, perché adesso uso il cammino. Sì, non so, niente, mi è avversa, perché io ho sentito tutte parole altre. Come ti dico, io purtroppo non ci sono dentro, quindi è difficile per me giudicare questo punto. So comunque che l'abuso, come in tutte le cose, è sempre da sconsigliare. È un telefono, penso. È sì, dove dovevo registrare. È una cosa del computer che si comunica a entrare loro. E' un po' lontano a parte loro. E' un po' lontano a parte loro. No? No, no, no. Lo vedi? Guardate qua, ridette. Non ti parla qui tu. Ma se una maschietta...